ciao ragazze buongiorno allora ho fatto questo video come prova per vedere se vi piace questa tipologia di video qui praticamente sto riempiendo il lavabo di acqua di acqua calda con il detersivo Wings per i piatti e un po di aceto per lavare i piatti della colazione perché io me li lavo mentre si sporcano dopodiché ho sistemato i fuochi ho dato una bella pulita ai fuochi con il mio melaceto e dopodiché l'ho risporcata appiccinando praticamente e niente voglio vedere se questa tipologia di video mi possa piacere se vi piace scrivetelo nei commenti e che dire ragazzi vi lascio questo piccolo video e noi ci vediamo al prossimo video che sarà quello la che ho pulito alla stanza da letto vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti